Installazione di appositi contenitori per le cicche di sigarette è la richiesta avanzata da numerosi cittadini di Agropoli, in particolare dai fumatori che, ritrovandosi in ambienti pubblici all'aperto, non sanno dove gettare mozziconi di sigaretta. Non è difficile trovare infatti le cicche gettate lungo le strade in spazio all'aperto, che contribuiscono non di poco all'inquinamento ambientale, dando anche un'immagine poco decorosa della cittadina agropolese. Così, la problematica viene emessa in risalto dalla comunità, che chiede all'amministrazione comunale retta dal sindaco Adamo Coppola i dovuti provvedimenti. Purtroppo si tratta di una problematica che interessa non solo la città di Agropoli, ma un po' tutti i centri urbani, piccoli o grandi che siano, a dispetto della loro apparenza inoffensiva. Le cicche sono causa di rilevanti problemi ecologici, sia nel campo della gestione dei rifiuti, sia nel campo della gestione forestale. Tali problemi sono particolarmente legati all'abitudine diffusa di disperderle nell'ambiente, sia naturale che urbanizzato. Un gesto apparentemente innocuo, che implica invece pesanti ricadute ambientali. Oltre agli aspetti ecologici, la disseminazione e l'ubiquità delle cicche negli spazi pubblici, può essere anche percepita come uno dei più sgradevoli sintomi di degrado del tessuto ambientale e del decoro urbano, in misura inferiore solo all'abbandono di fici per le strade, assumono un certo rilievo inoltre, aspetti relativi all'igiene e alla sanità, legati al rischio di intossicazione per ingestione, particolarmente in soggetti di età infantile. Così, il fenomeno dell'abbandono di cicche e quello dell'accumulo possono essere mitigati dalla diffusione di ricettacoli idonei, come portacenere o con l'utilizzo di Ecosmoc, messi a disposizione dei clienti di esercizi commerciali o di frequentatori di un sito, mentre lo smaltimento in cestini, cassonetti o contenitori per i fiuti ordinari è da considerarsi inappropriato, dal momento che l'abbraccio residua può essere all'origine di incendi.